Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video, vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Nel caso di cui vi parlo oggi emerge un oscuro intreccio di destini familiari. Il sottile velo del prevedibile si strappa e diviene inevitabile il confronto con il male che si cela dietro le porte di casa. In questa storia il tradimento della fiducia trasforma l'autodifesa in una ricerca di giustizia drammatica. Jade Jenks nasce in California il 14 ottobre del 1983. I suoi genitori, Jeanette e Steve, divorziano quando lei ha appena tre mesi. Sua madre è affetta dall'uso costante di sostanze e alcol, per questo suo padre ha deciso di porre fine al matrimonio e di portare la piccola Jade con sé. Vuole crescerla come un bravo papà single. Steve trova una nuova casa a San Diego e Jade vive un'infanzia fantastica. Cresce, si fa tanti amici, è bravissima scuola e va molto d'accordo con suo padre che ha avviato un'impresa di costruzione di successo. Al contrario il rapporto tra Jade e la mamma è diventato inesistente. Jeanette ha il diritto di vedere sua figlia durante il fine settimana, quindi piuttosto spesso, tuttavia le due non sono riuscite a creare un legame. La donna ha continuato ad avere problemi di dipendenza, non si è comportata da madre responsabile e talvolta neanche si è presentata agli incontri con la figlia, che ne è rimasta sempre delusa. Gli anni sono passati e Jeanette è andata a trovarla sempre di meno, fino a che Jade non l'ha più vista. Jade ormai ha 14 anni e frequenta la scuola superiore, ottenendo ottimi risultati. Proprio in questo periodo l'adolescente riceve un'improvvisa telefonata da sua madre che le dice di essersi sposata e di essere incinta. Da questo momento, dopo anni di dimenticanza, le due si riavvicinano. Jade è davvero entusiasta di avere un fratellino e di rivedere sua madre, che pare abbia superato i suoi problemi. Per la prima volta, dopo tanto tempo, Jade va a trovare sua madre e conosce il patrigno, un uomo di 41 anni di nome Tom Merriman. Tom Merriman è nato il 2 giugno del 1956 e ha già un figlio, nato da una precedente relazione. Viene descritto come un uomo molto gentile e generoso, ama la natura e il giardinaggio. Insomma, passare il suo tempo libero all'aria aperta. Tom e Jeanette mettono al mondo un maschietto di nome Cash. Jeanette ora desidera con tutto il cuore che Jade faccia parte della sua famiglia. La ragazza vive ancora con il padre biologico, ma fa spesso visita alla mamma. Poi la nascita del fratello unisce tutti ancora di più. Jade adora essere una sorella maggiore, prendersi cura del piccolo Cash, tuttavia la ragazza non va molto d'accordo con il patrigno Tom. Anzi, a dirla tutta, Tom non le piace proprio, lo considera strano. Jade in futuro sosterrà che Tom soffriva di imbarazzo sociale, cioè si sentiva a disagio, fuori posto, in molte situazioni che gli richiedevano di relazionarsi agli altri. Jade, una ragazzina di 14 anni, trova piuttosto complicato avere una conversazione con un tipo come lui. Man mano dunque comincia a evitare di stargli vicino, soprattutto se sono da soli, perché non sopporta quel silenzio imbarazzante che aleggia tra loro due. Passano un paio d'anni, Jade ne ha compiuti 16 e per lei tutto va alla grande. Adora vivere con il papà, ma anche essersi riavvicinata alla mamma, ama follemente il fratellino minore, ha buoni amici, continua ad andare molto bene a scuola. La sua vita sembra un puzzle in cui ogni tassello si incastra alla perfezione. Tuttavia, quando Jade compie 18 anni, tutto cambia. La relazione tra sua madre e Tom diventa critica. Dopo quattro anni di sobrietà, Jeanette ha una ricaduta pesante e non ricomincia soltanto a bere, ma assume di nuovo anche sostanze. La sua personalità cambia completamente, rivelando una persona incline all'ira e violenta. Jeanette e Tom litigano con costanza e si accusano a vicenda di essere fisicamente violenti durante le discussioni. In tre diverse occasioni la coppia chiede il divorzio, ma alla fine ogni volta decide di riprovarci. Quando Jeanette e Tom litigano, Jade è spesso presente e non sa come farle smettere. La sua priorità è tutelare il fratellino, non vuole che cresca in un ambiente inadeguato. Jade si rende conto che il problema principalmente è sua madre, quella che persevera in quei vizi pericolosi e quella che inizia sempre a litigare. Così Jade comincia ad avvicinarsi al patrigno Tom, a schierarsi sempre dalla sua parte quando scoppia una lite, a raccogliere le sue confidenze e anche a rivelargli le proprie. Jade e Tom sperano che Jeanette si impegni per disintossicarsi e rimettersi in sesto, ma lei non ci riesce. I due sono preoccupati per Cash, che ora è felicissimo di cominciare l'asilo. Quando arriva il suo fatidico primo giorno, il bambino è talmente eccitato che si prepara da solo, prende il suo zainetto e aspetta che la mamma lo accompagna all'asilo, ma lei non si sveglia. La notte prima Jeanette ha bevuto tanto e ha fatto uso di parecchie sostanze andando a letto completamente collassata. Siccome Tom va al lavoro molto presto la mattina, neanche lui ha potuto portare il figlio all'asilo. Quindi il piccolo Cash rimane in casa rattristato e digiuna tutto il giorno. Quando Jade e Tom lo scoprono, decidono di prendere dei provvedimenti. Questo evento è la goccia che fa traboccare il vaso. Jeanette sta davvero trascurando il bambino e Jade è disposta a lasciare la casa di suo padre per trasferirsi dalla mamma e darle una mano con il piccolo Cash. Questo è un enorme sacrificio per una ragazza di soli 18 anni, ma lei pensa soprattutto proteggere il fratellino e ad assicurarsi che vada all'asilo. La ragazza si trasferisce e frequenta ben due college di San Diego, il Mesa College e il Miracosta College. Tom e Jade sperano vivamente che Jeanette si decida a ripulirsi, ma lei non abbandona le sue dipendenze. Il suo comportamento e il suo consumo le costano addirittura l'arresto e quando Jeanette viene condannata, Tom e Jade perdono la speranza che Jeanette possa cambiare. I due fanno le varigie e portano Cash con loro in una nuova casa. Ricapitolando, John attualmente ha 45 anni, Jade 18 e Cash 4. Ora che la ragazza e il suo patrigno sono responsabili del bimbo, la situazione migliora nettamente. Quando Jeanette esce di prigione, non prova neanche a cercare la sua famiglia. Intanto Jade e Tom si avvicinano parecchio, tanto che l'uomo inizia ad appellare la ragazza come sua figlia e Jade comincia a chiamarlo papà, anche se un padre lei già lo ha. Terminato il college, infatti Jade inizia a lavorare per suo padre biologico che, come detto, è titolare di un'impresa edile di grande successo. La ragazza si occupa della contabilità dell'azienda e ricomincia a passare tanto tempo con il suo papà. Ma Tom, presto, diventa geloso del loro rapporto. Non vuole che Jade stia così vicino al suo vero padre, vuole essere lui, l'unico genitore per lei. La considera davvero come una figlia. Per cercare di manipolare Jade e di metterla contro suo padre, Tom inizia a fare commenti sprezzanti su Steve, vuole che la ragazza resti a casa con lui più tempo possibile e a questo scopo diventa esigente. Si aspetta che Jade si occupi della casa al 100%, deve pulire, cucinare, fare da mamma cash. A un certo punto, quando Jade ha 23 anni, comincia ad averne abbastanza e decide di allontanarsi dal patrigno Tom. La loro relazione si è inasprita e lei vuole trasferirsi per ritrovare il suo spazio. A Tom questa decisione spezza il cuore e nei mesi successivi tenta in tutti i modi di rimanere in contatto con Jade. La chiama, le manda messaggi, ma lei non gli risponde mai. Tuttavia Jade ogni tanto va ancora a casa sua perché vuole vedere il fratello. Si assicura di essere sempre presente al suo compleanno e durante le vacanze, ma per la maggior parte del tempo la ragazza sta alla larga da quella casa. Giorno dopo giorno Tom e Jade si allontanano, mentre Jeanette riappare sulla scena. Si è disintossicata di nuovo e ora vuole e ottiene la piena custodia di Cash. Quindi prende il bambino e se ne va. Per cinque anni Tom aveva vissuto con Jade e Cash, ma nel giro di poco tempo è rimasto da solo. Ora il figlio vive con la madre, Jade non ha più motivo di andare a casa sua. Mentre Tom cade in una profonda depressione, la vita di Jade prospera. Lei lavora ormai da tempo con suo padre nell'impresa edile e si rende conto che ama il design, così all'età di 25 anni lascia l'azienda paterna per avviare un'attività improprio dedicata appunto all'interior design. Passano ben 10 anni, la sua attività fiorisce e diventa un punto di riferimento nella sua località, con un patrimonio netto di 15 milioni di dollari. Jade a 35 anni conduce una vita davvero soddisfacente. È titolare di un'attività di prestigio, con molti soldi a disposizione, ma anche molti amici. Facciamo un passo avanti fino all'aprile del 2020. Jade ha 37 anni e si trasferisce in una nuova casa situata a South Nardo Avenue, a Solana Beach, a 35 chilometri da San Diego. Tom, il suo patrigno, vive sulla stessa strada. La sua abitazione è al numero 144, mentre quella di Jade al 148. Sono andata a controllare bene la posizione su Google Maps e, come dire, ho notato che in pratica sono vicini di casa. I due quindi non si vedono da 12 anni e in questo periodo Tom ha ricostruito la sua vita, ha superato la depressione e nel 2013 ha aperto un'attività, un'azienda no profit in cui alleva farfalle, un centro sia di ricerca che di formazione, molto conosciuto nella zona. A 64 anni anche Tom sta riscuotendo successo. Ora che sia Jade che Tom vivono da soli, si riavvicinano, vanno l'uno a casa dell'altra e chiacchierano. Una volta a settimana cenano addirittura insieme da Jade. Insomma, diventano di nuovo ottimi amici. Hanno tante cose da raccontarsi e il loro rapporto riacquista le tipiche sfumature di quello che condividono un padre e una figlia. Il loro legame diventa speciale, tanto che Jade arriva ad affermare che non si fida di nessuno al mondo, più di Tom. Tom, d'altro canto, le manda messaggi con scritto «Nessuno al mondo ti amerà tanto quanto me». Tuttavia Tom, nonostante una relativa serenità, affronta tanti problemi di salute e soffre di disfunzione epatica. Ha un pacemaker al cuore per l'insufficienza cardiaca con gestizia, che si verifica quando il cuore non è in grado di pompare sangue ricco di ossigeno nell'organismo. Ha anche i polmoni congestionati, soffre di un enfisema polmonare che gli provoca difficoltà respiratorie e un blocco delle arterie dal 30 al 40%. La sua salute sta peggiorando sempre di più e Tom non sa più come gestire queste difficoltà, così anche lui si illude di trovare conforto sia nell'alcol che assumendo tanto Xanax, da svilupparne una dipendenza. Nel giro di sei mesi Jade diventa per lui una specie di badante. Gli cucina i pasti, gli pulisce la casa, ritira le sue prescrizioni, lo porta agli appuntamenti in ospedale. Jade gli dedica tutto il tempo possibile per tenergli compagnia e supportarlo. E lo fa con piacere, considera Tom come un padre e vuole prendersi cura di lui. È metà dicembre del 2020, sono passati circa otto mesi da quando Jade si è trasferita nella casa vicino a Tom e lei parte per un viaggio a Cabo San Lucas, in Messico, con Adam, uno dei suoi ex fidanzati con cui è tornata in contatto recentemente. Tuttavia, durante la vacanza tra i due non accade nulla, ma non vi scordate di Adam, perché farà la sua ricomparsa. Mentre Jade in Messico riceve una chiamata angosciante da Tom, lui biascica le parole, non si esprime chiaramente, Jade gli chiede di provare a spiegarsi meglio. Alla fine Tom inizia a ripetere più volte, mi hanno picchiato e Jade, allarmata, gli domanda chi l'abbia aggredito. Tom, in risposta, le manda una foto che ritrae una montagna di fazzoletti e asciugamani insanguinati. Jade, tuttavia, riesce a calmarlo e deduce che lui si era ubriacato così tanto da essere caduto. Allora dice a Tom di riposare, di prendersi cura di sé e di non bere troppo. Passa qualche giorno e Tom la chiama di nuovo per dirle che è ricaduto e pensa di essersi rotto le costole. A questo punto Jade è davvero preoccupata, Tom sta bevendo troppo. E lui è un uomo fragile che non sta bene in salute, quindi Jade, dal Messico, telefona i paramedici che vanno a casa dell'uomo. I dottori confermano che Tom ha delle costole rotte e si accorgono che è in astinenza da Xanax, quindi decidono di portarlo in ospedale e ricoverarlo per due settimane. Quando Jade torna dalle vacanze, la prima cosa che fa è andare a trovare Tom in ospedale. Lui non ha ancora un bel aspetto e prevedono di ricoverarlo per un'altra settimana. Jade, intanto, vuole fare qualcosa di carino per lui, così il 23 dicembre pulisce la sua casa da cima a fondo, comprese gli interni dei mobili della cucina. Dopodiché vuole pulire anche l'ufficio di Tom, dove non è mai entrata prima. A lui non fa piacere che qualcuno invada la sua privacy, è molto riservato, lì dentro non soltanto lavora, ma si svaga anche. Jade ha sempre rispettato questa richiesta di Tom prima d'ora, ma adesso comincia a spolverare i mobili e le librerie dell'ufficio, poi la scrivania. Sposta vari oggetti lì sopra e accidentalmente muove il mouse del computer che era in stand-by, ma ora si è riattivato. E guardando il salvaschermo di Tom, Jade rimane basita. Vede l'immagine ingrandita del seno di una donna. Un seno che le sembra familiare? Certo, perché è il suo seno, non quello di una donna a caso fotografata su internet. Jade è sconvolta. Si chiede come sia possibile che il patrigno custodisca una foto del suo seno. È allibita, ma si ricompone, è determinata a scoprire da dove provenga quella foto. Se ce ne siano altre? E cosa stia succedendo? Dunque si siede alla scrivania ed esamina il computer di Tom, guarda tutti i file presenti sul PC e individua la cartella che contiene la foto originale del suo seno, ma quella non è l'unica che trova. Ce ne sono a centinaia e la ritraggono sempre senza vestiti. Ma non solo, ci sono persino foto che la inquadrano in momenti intimi con i suoi precedenti fidanzati. Jade visualizza le proprie foto scattate sotto la doccia dai suoi ex e organizzate sul PC di Tom in una cartella apposita rinominata Jade sotto la doccia. C'è anche un'altra cartella dedicata alle parti intime della donna. Le foto sono davvero tante e la cosa peggiore è che non sono solo recenti, ma la raffigurano in momenti diversi della sua vita, a 30 anni, a 25 oppure a 20. Nel periodo in cui Jade viveva con Tom e addirittura risalgono a quando era minorenne. In alcune foto aveva a mala pena 16 anni. Jade viene sopraffatta dalla nausea, si sente usata, manipolata, violata. Ha scoperto che la relazione padre e figlia con Tom era tutta una farsa. Cosa certa è che molte di queste foto le sono state rubate. Alcune se le era scattate da sola, senza vestiti, magari per inviarle ai fidanzati. Aveva fatto foto e video durante i rapporti intimi, li teneva salvati su una scheda SD e sul suo laptop, che in effetti erano scomparsi entrambi. Ora Jade sa che ad averli rubati era stato Tom. Tuttavia si presume che Tom fosse anche riuscito ad accedere all'account cloud di Jade per scaricare segretamente tutti questi file. Alcune fonti che ho consultato riportano addirittura che Tom aveva installato delle telecamere nascoste quando Jade era adolescente e aveva ricavato il materiale da quelle registrazioni. A seguito di queste scoperte, Jade è distrutta. L'uomo che considerava come un secondo padre, cosa diavolo ci fa con tutte quelle foto? La mente di Jade è come un frullatore impazzito. La risposta è che Tom si procura piacere guardandole. Jade è disgustata, non riesce più a stare in quella casa e torna nella propria abitazione. Si siede sul divano e anche se non ha alcuna colpa, si sente sporca. Vorrebbe farsi una doccia, ma a questo punto ha paura anche di sfilarsi i vestiti. Lo stomaco le si sta rivoltando e Jade corre in bagno a vomitare. Passano un paio d'ore e Jade decide di confidarsi con alcuni amici per chiedere loro un consiglio. Cosa farebbero al posto suo? Mike è il primo e caro amico che contatta. Gli spiega la situazione e gli chiede con frenesia come dovrebbe comportarsi e lui le consiglia di tornare a casa di Tom per cancellare le foto e poi andare avanti con la sua vita, dimenticando questa orribile scoperta. Ma Jade ha paura di cancellare le foto. Se l'avesse fatto, Tom avrebbe scoperto che lei sapeva tutto e chissà come avrebbe reagito. Ora Jade sta mettendo tutto in discussione. Pensa che siccome Tom è stato capace di nasconderle una roba del genere, forse sarebbe anche in grado di farle del male. Jade quindi chiama un'altra amica, Sarah, spiega anche a lei la situazione e le chiede consiglio su come agire. Sarah, senza troppi giri di parole, le dice di andare dalla polizia, ma Jade teme le conseguenze di questa eventuale scelta. Anche così Tom scoprirebbe che Jade lo ha smascherato e lei ha paura che la polizia non la protegga da lui adeguatamente. Io onestamente credo che la polizia avrebbe valutato seriamente la situazione. Tom sta commettendo un crimine soprattutto per quanto concerne le foto in cui Jade era minorenne, ma lei ha troppi dubbi. Rimane a casa e continua a pensare finché le viene in mente qualcosa, o meglio, qualcuno. Nel corso degli anni un caro amico di Jade, di nome Sam, le aveva raccontato di un tipo di nome Alan Roach, soprannominato il riparatore. Era possibile rivolgersi a questo ragazzo che lavora nell'ambito della sicurezza privata per una richiesta di aiuto. Non importava se il problema in questione fosse grande o piccolo, lui lo avrebbe risolto. Quindi alle 22.40 del 23 dicembre 2020 Jade rintraccia questo ragazzo su Facebook e gli manda un messaggio scrivendogli Ciao, ho ricevuto i tuoi dati dal mio amico Sam. Alan risponde molto velocemente C'è qualcosa che posso fare per te? Jade gli accenna la situazione, ma gli dice che è molto imbarazzata e vorrebbe incontrarlo di persona. Alan le risponde di stare tranquilla e quella stessa sera la raggiunge a casa sua. Quando Alan arriva, Jade approfondisce il discorso, gli dice che ha un disperato bisogno d'aiuto perché non sa proprio come affrontare la questione con Tom. Ora lui la spaventa molto. Fra una settimana sarebbe uscito dall'ospedale e allora cosa sarebbe successo? Alan, che come detto è esperto nell'ambito della sicurezza privata, esorta Jade a installare delle telecamere intorno alla sua casa e le consiglia anche di tenere un'arma in camera da letto. Jade segue tutte le sue indicazioni e posiziona un coltello vicino al letto. Infine sistema sul pavimento della sua camera un grosso telo che di solito si usa per la copertura di piscine, auto, moto, barche. Questo perché pensa che se qualcuno entrerà nella stanza camminando su quel telo farà l'umore e lei si sveglierà. Comunque appena Alan mette in sicurezza la casa, Jade gli dice che vorrebbe farsi una doccia ma che si sente tranquilla soltanto se lui rimarrà fuori dal bagno. Alan ha consente, Jade si fa la doccia e poi lui va via. Tuttavia da questo momento Alan torna a casa di Jade ogni giorno per trattenersi fuori dal bagno mentre lei fa la doccia. Sembra strano che un agente della sicurezza privata esegua prestazioni del genere per una sconosciuta. Infatti secondo alcune fonti Alan e Jade intrattengono una relazione intima in questo periodo. I giorni intanto passano, passa il Natale e arriviamo al 29 dicembre. Dal 23 al 29 dicembre Alan e Jade si scambiano messaggi e parlano di un piano misterioso da poter mettere in atto. Jade scrive speriamo di poter trovare un piano, immagino tu sia troppo occupato per stare qui a controllare mentre faccio la doccia ogni giorno. È ora di mettere a punto un piano. I due si scambiano messaggi costantemente, addirittura centinaia. Si chiamano ogni giorno e continuano a parlare di questo piano misterioso. Poi arriva il 31 dicembre, il giorno in cui Tom dovrebbe essere dimesso dall'ospedale e Jade dovrebbe andarlo a prendere. Dal giorno prima, il 30, Jade è nel panico. Infatti ha mandato ad Alan, il riparatore, altre centinaia di messaggi con scritto frasi come La mia mente gira senza sosta, ci sto riflettendo. Ho una soluzione semplice. Invia un messaggio anche ad un amico, scrivendo. Continuo a lottare con dei problemi morali, ma non mi guarderò mai più alle spalle. Per questo ho fatto la chiamata. La domanda che sorge spontanea è, cosa intende Jade con ho fatto la chiamata oppure con ho una soluzione semplice? Anche se non si può provare senza ombra di dubbio che questi messaggi siano riferiti al piano, si direbbe che Jade volesse uccidere il suo patrigno Tom. Sembra questa la soluzione più semplice. Jade infatti decide di non andare dalla polizia, di non denunciare pubblicamente Tom e nemmeno di affrontarlo in privato, per discutere di quelle foto in suo possesso. Jade propende immediatamente per l'omicidio. Sono le 10.52 del mattino del 31 dicembre del 2020. Jade entra nell'ufficio di Tom, apre le cartelle e scatta qualche foto al computer dal proprio cellulare per conservare delle prove delle sue azioni oscene. Poi cancella tutte le foto dal pc del patrigno e rompe il disco rigido versandoci sopra una bottiglia di Jack Daniels. Alle 11.19 Tom viene dimesso dall'ospedale. Sono passati otto giorni da quando Jade ha scoperto che lui nascondeva le sue foto intime. È accaduto tutto molto velocemente e Jade incontra Tom che ha con sé un vero malloppo di medicine tra cui lo zolpidem, un farmaco sedativo che riduce l'attività cerebrale per favorire il sonno. Jade lo accompagna fin dentro la sua macchina, non lo affronta, non gli dice niente di quell'inquietante scoperta. Però alle 11.30, 11 minuti dopo che Tom è stato dimesso dall'ospedale, Jade invia un messaggio ad Alan con scritto Gli ho appena somministrato una dose estrema. Ovviamente si riferisce ai farmaci che lei lo ha indotto ad assumere in quantità elevate. In seguito manda un altro messaggio ad Alan in cui scrive, mi fermo da Dixie Line per prendere tempo, fammi sapere. Dixie Line è un negozio di ferramenta dove Jade entra per comprare asciugamani, fascette e due paia di guanti. Poi riscrive ad Alan per avvertirlo, sono uscita da Dixie Line, fammi sapere. Che cosa? Quando sarebbe stato pronto a partecipare al piano. Quindi nel frattempo Jade guida senza meta per un po' aspettando il messaggio di Alan, ma non riceve risposta. Jade diventa frustrata, Tom è svenuto sul sedile posteriore della macchina, allora lei decide di attuare un piano B. Torna a casa, prova a condurre Tom fuori dall'automobile, ma lui è troppo intontito e collassa sul vialetto. Jade a salita dal panico invia ad Alan una raffica di messaggi per informarlo. È caduto nel vialetto, non posso portarlo in casa, non posso riportarlo in macchina, non sono abbastanza forte, è bloccato lì, puoi venire subito? Cosa devo fare? Ebbene, Alan, il ripalatore, colui che risolve i problemi, la sta gostando. Vale a dire che si rende inafferrabile e sfuggente come un fantasma, che legge i suoi messaggi, ma ci passa oltre, ignorandola come se lei fosse trasparente. Quindi Jade è di nuovo costretta a cambiare piano, dato che Tom non può rimanere accasciato nel vialetto di casa. Decide così di mandare un messaggio ad Adam, il suo ex fidanzato con cui è andata in Messico. Ci scrive, il mio patrigno è svenuto nel vialetto perché si è obbriacato, è un'emergenza, quindi potresti venire subito? Tuttavia Adam risponde, oh proprio non posso, scusa, mi sto facendo un tatuaggio e non posso aiutarti. Allora Jade manda un messaggio a un altro dei suoi amici, Charles, ma nemmeno lui può aiutarla perché si trova fuori nel bel mezzo del deserto. Così Jade scrive all'amica Sarah, quella che le aveva consigliato di andare dalla polizia a denunciare Tom. Il messaggio di Jade, però, ha un contenuto sospetto. Sarah, lui è vivo, per favore non farmi domande, aiutami solo a portarlo in casa. In ogni caso Sarah non fa alcuna domanda e sopraggiunge alle 13 con il suo ragazzo Justin per aiutare Jade. Insieme sollevano Tom e lo rimettono nell'auto. Jade spiega anche ai due soccorritori che Tom è ubriaco ed è svenuto per questo, quindi ora lo riporterà all'ospedale. Sarah e Justin la vedono allontanarsi in macchina e se ne vanno anche loro. Jade a questo punto riprende a vagare e invia un'altra raffica di messaggi ad Alan, terribilmente amareggiata perché lui non le risponde da tutta la mattina. Eppure doveva essere il suo complice. Gli scrive, si sta svegliando e non volevo essere proprio io a fare una cosa del genere. Ma Alan ancora non si fa vivo e Jade alle 14 e 30 torna a casa. Sono ormai passate tre ore da quando è andata a prendere Tom all'ospedale e gli ha somministrato quei farmaci che gli hanno fatto perdere conoscenza. Soltanto adesso Alan le risponde ma le dice che è troppo occupato, non può aiutarla a quel giorno, però avrebbe chiesto al suo socio in affari di sostituirlo. Tuttavia Jade non è d'accordo e risponde, diavolo no, sono molto a disagio al pensiero che qualcun altro sia coinvolto. Ma Alan le dice che è troppo tardi, ha già contattato il socio che sta arrivando a casa sua. Jade a questo punto si rassegna e si mette in attesa del collaboratore sconosciuto, ma dopo 30 minuti lui non è ancora arrivato. Incavolata Jade riscrive ad Alan. Si sta svegliando, non so per quanto tempo potrò controllare il mio temperamento, ti ho chiesto aiuto, provo a farlo da sola, avevo solo bisogno del tuo aiuto, invece sto aspettando uno sconosciuto. Poi gli manda un ennesimo messaggio con scritto, quando arriverai sarà come il fine settimana con Bernie. Jade si riferisce al film comico Weekend at Bernie's o Weekend con il morto, in cui due uomini vanno a casa del loro capo e lo trovano senza vita, temendo che verranno accusati del suo omicidio, vanno in giro per tutto il fine settimana con il cadavere, fingendo che il capo sia ancora vivo. Finalmente alle 15.30 il socio in affari di Alan, Brian Solomon, si fa vivo. Jade lo porta a casa di Tom e gli racconta l'accaduto con frenesia. Gli spiega che ha messo K.O. Tom grazie a delle medicine che il patrigno è disteso sul sedile posteriore dell'automobile. Brian non sa nulla di questa storia, in quanto Alan è stato così scaltro da non avergli fornito alcun dettaglio, e ovviamente sì, sono ironica. Gli ha detto soltanto che una donna di nome Jade aveva bisogno del suo aiuto. Dunque, Brian chiede a Jane cosa vuole che lui faccia esattamente. E Jade, con fare tranquillo, gli dice voglio che lo strangoli, io mi occuperò del resto. Poi aggiunge, oh dimenticavo, c'è anche una corda in macchina che puoi usare se vuoi. Brian, perplesso, le risponde scusami? Vuoi che strangoli qualcuno? Jade scopre così che Brian non è un sicario come si aspettava. Lui le dice che deve allontanarsi un attimo per ricontattare Alan, invece esce di casa e scappa via gambe levate. Brian era convinto di dover compiere una buona azione per aiutare qualcuno in difficoltà, ma ora, pur scoprendo che Jade ha cattive intenzioni, non va dalla polizia. Alle 16, Jade manda un altro messaggio ad Alan scrivendo Cosa diavolo è successo a Brian? Dove è andato? Ho chiesto il suo aiuto, non posso farlo da sola. Lui si sta svegliando e sta diventando molto più aggressivo. Non riesco a tenere un corpo che scalcia nel bagagliaio. Lo prendo a bastonate. Dunque Tom non è più sul sedile posteriore dell'auto, ma è finito nel bagagliaio. La situazione si complica, eppure Alan sparisce di nuovo. In preda alla disperazione, Jade ricontatta il suo ex fidanzato Adam, ma lui si sta ancora tatuando. Alle 18, due ore dopo la fuga di Brian, Alan risponde a Jade scrivendole. Cosa, mi sto occupando di alcuni problemi della mia famiglia. Ho un'idea migliore, ma non possiamo occuparcene stasera, non possiamo permetterci di eseguire il lavoro in modo disorganizzato. Vi chiedo, a voi non sembrano sproveduti questi due che per ore discutono dell'omicidio da commettere tramite messaggi? Certo, non sono del tutto espliciti, ma il loro progetto criminale è facilmente intuibile. Non basta parlare di lavoro disorganizzato per farla franca. Comunque, ancora una volta, Jade viene abbandonata a se stessa. Ormai sono le 20, sono passate 8 ore da quando Tom è uscito dall'ospedale e ora si trova ancora nel bagagliaio della macchina di Jade. A quest'ora, Adam, l'ex di Jade, ha finito di farsi il tatuaggio e la raggiunge a casa ritrovandola sconvolta in preda a un esaurimento nervoso. Sono due ore che Jade non sente il riparatore, Alan, e nel frattempo ha deciso di prendere in mano la situazione. La verità emerge proprio davanti all'ex Adam. Jade gli confessa immediatamente tutto quello che è successo e che ha fatto. Gli racconta delle sue foto intime ritrovate sul computer di Tom, di essere entrata in contatto con Alan, un resperto nell'ambito della sicurezza privata che avrebbe dovuto aiutarla, e gli dice del piano. Infine Jade esclama l'ho ucciso, sì, l'ho fatto collassare con le medicine, ma non stava morendo abbastanza velocemente, quindi gli ho messo un sacchetto di plastica in testa, l'ho soffocato e strangolato. Adam rimane impietrito, scioccato, non gli pare possibile che la sua ex fidanzata abbia commesso un omicidio. Anche lui si fa prendere dal panico, come è ovvio che sia, perché pensa di trovarsi sulla scena del crimine, quindi comincia a pulire tutte le superfici e gli oggetti che ha toccato. Tuttavia Jade gli chiede aiuto per spostare il corpo di Tom dall'automobile a letto, vuole che la morte del patrigno sembri causata da un overdose di farmaci. Era probabilmente questo il piano originale da portare a termine con il supporto del riparatore. Magari pensavano di passarla liscia perché Tom in effetti aveva problemi di dipendenza. In ogni caso, dopo la compromettente richiesta, anche Adam scappa via da quella casa, proprio come Brian. Allora Jade torna a scrivere ad Alan. Sono sola, ho poche ore di tempo prima che i lividi si formino, ho bisogno di portarlo dentro, ho bisogno di risolvere il problema, non finirà bene per me. Nel frattempo Adam va a una festa di Capodanno, vi ricordo che tutto ciò sta accadendo alla vigilia del nuovo anno, ma non riesce a tenere la bocca chiusa. Racconta ad altri quello che ha fatto Jade. Il cervello di Adam continua ad arrovellarsi. Qual è la cosa giusta da fare? Dovrebbe andare dalla polizia? Finalmente, alle 9.30 del mattino del primo gennaio 2021, Adam telefona al 911 per riferire che Jade ha ucciso il suo patrigno. Nel frattempo Jade sta ancora mandando messaggi ad Alan, lo fa costantemente. In un messaggio gli scrive, per favore aiutami. In un altro, ho bisogno di aiuto, devo farlo entrare in casa, il piano B non finirà bene per me. Tuttavia, Alan continua a ignorarla, ma non solo lui. Quella mattina Jade scrive diversi amici, ma dormono tutti perché hanno passato la notte a festeggiare il nuovo anno. Certo, scegliere di spostare il corpo insieme a lei li avrebbe mischiati in una gran brutta faccenda, quindi magari non avrebbero collaborato comunque. Dopo tutte queste ore di panico e tormenti, Jade dovrebbe semplicemente arrendersi, a mio avviso, al posto di cercare di reclutare complice di scrivere messaggi che suggeriscono, se non provano, la sua colpevolezza. Ma lei, è chiaro, ha perso completamente la bussola ed è il principio che lascia una scia di tracce evidenti dietro di sé. Come detto, se Alan si presentasse adesso per aiutarla, sarebbe ancora più sprovveduto. Nel pomeriggio, verso le 17, Jade riceve una telefonata dal fratello di Tom, il quale le dice che i detective lo stanno cercando. Jade, allarmata, continua a mandare messaggi in codice ad Alan e scrive, avevo bisogno di pulire la spazzatura dal mio violetto, se qualcuno sa di questo posto potrebbe venire. Ho un mucchio di spazzatura di cui devo sbarazzarmi, puoi mandare qualcuno? Ma Alan continua a non risponderle e alle 17.30 Jade gli manda l'ultimo messaggio, scrivendo, mi hanno presa, mi stanno fermando. Già, è proprio in questo momento che la 39enne Jade viene fermata dalla polizia e arrestata. Viene portata alla stazione di polizia per un interrogatorio, ma lei non dice niente. Non si lascia sfuggire neanche una parola, ribadendo che ha diritto a essere assistita da un avvocato. Jade viene trattenuta tutta la notte, mentre gli investigatori cercano di capire dove sia il corpo di Tom. Hanno perquisito la casa di Jade, quella di Tom e infine l'automobile della donna, ma lui non è più lì dentro. Alle 7 del mattino del 2 gennaio 2021 i detective stanno ispezionando in modo più approfondito l'esterno della casa di Tom e decidono di perquisire quel grosso mucchio di spazzatura che avevano già notato nel violetto di casa dell'uomo. Ed è lì sotto che trovano il cadavere di Tom, come presumibile da quei messaggi strani che Jade aveva inviato ad Alan. Oltre a trovare il corpo, gli investigatori avevano già ottenuto anche la confessione di Adam. Così Jade viene accusata di omicidio di primo grado e la cauzione è fissata a un milione di dollari. Tuttavia Jade è in grado di pagarla senza sforzi, quindi viene rilasciata in attesa del processo. In questo lasso di tempo Jade torna a vivere a casa del suo padre biologico, continua a svolgere la sua attività e a postare contenuti promozionali sui suoi lavori, sui social media. Qualcuno in realtà teme che Jade possa fuggire in Sudafrica, il paese natale di suo padre biologico, ma lei non scappa. Nel dicembre del 2022 inizia il suo processo e Jade si dichiara non colpevole. Sostiene di non aver ucciso Tom, ma che era morto a causa di un overdose. Non capisco come questa versione potrebbe spiegare il motivo per cui Tom era stato trovato sotto un mucchio di spazzatura, onestamente. Di contro l'accusa presenta tutte le prove e quella più schiacciante consiste proprio nelle centinaia di messaggi scambiati tra Jade e Alan, che riempiono ben 70 pagine. Io vi ho letto solo quelli più rilevanti. Anche Adam viene chiamato al banco dei testimoni, visto che aveva riferito il crimine commesso dalla sua ex per sua stessa ammissione e testimonia anche Brian, il socio in affare di Alan, a cui Jade aveva chiesto di strangolare Tom, quindi di ucciderlo per lei. Quanto ad Alan, lui sparisce completamente dalla scena, non si presenta al processo e nessuno ha la minima idea della sua vera identità, a parte Jade e il socio Brian, chiaramente. Jade accusa Brian e Adam di mentire. È lei che sta dicendo la verità. Durante il processo Jade stessa decide di testimoniare per fornire delle prove a suo favore, scelta che di solito, per gli autori di un crimine, non è una buona idea. Dunque, mentre è alla sbarra, racconta della sua relazione con Tom, di come si erano conosciuti e di come si erano ritrovati, poi ripercorre il momento in cui ha trovato le proprie foto intime sul suo computer. E a questo punto crolla completamente. Scoppia a piangere, prova a decontestualizzare i tanti messaggi incriminanti scambiati con Alan. Il piano misterioso che stava architettando si riferirebbe ad altro. Jade e Alan avevano solo intenzione di affrontare Tom riguardo alle foto, di convincerlo a cancellarle e poi a lasciare la casa. Tuttavia l'accusa smentisce Jade. Ripete che questa versione non sta in piedi. La prova schiacciante contro Jade è che lei si era già preoccupata in prima persona di cancellare le foto dal computer di Tom, ancora prima di andarlo a prendere in ospedale. L'autopsia effettuata sul corpo di Tom non rileva segni di strangolamento e classifica la causa della sua morte come avvelenamento da farmaci, un mix di sonniferi e antidolorifici. La giuria, dopo aver deliberato, dichiara Jade Jenks colpevole di omicidio di primo grado. La comunicazione della sentenza è ripresa in un video in cui Jade mi sembra davvero sotto sciocco. Verdict. Count one. First degree murder. We the jury in the above entitled cause find the defendant Jade Sasha Jenks guilty of the crime of murder in violation of penal code section 187 subsection A of felony as charged in count one of the amended information and fix the degree thereof as murder in the first degree dated today's date sign the four person. Il 6 marzo 2023 Jade viene condannata all'ergastono con la possibilità di richiedere la libertà condizionale dopo 25 anni. Questo caso ha diviso molto l'opinione pubblica. C'è chi pensa che Jade non avrebbe mai dovuto uccidere Tom pur avendo scoperto quelle foto nel suo computer. Avrebbe dovuto andare dalla polizia, non farsi giustizia da sola. Ma c'è anche chi ritiene che Jade abbia fatto bene a punire Tom. Lui l'aveva violata intimamente quindi non era innocente. Ora, secondo me Jade avrebbe dovuto andare dalla polizia che avrebbe sicuramente preso riprovvedimenti anche perché Tom era entrato in possesso pure di fotografie intime in cui Jade era minorenne. Sarebbe stato arrestato e processato e Jade con le sue disponibilità economiche avrebbe potuto trasferirsi e non vederlo mai più. Tom non è innocente, questo è sicuro, ma ciò non vuol dire che Jade dovesse ammazzarlo. Questo non può essere considerato come un omicidio commesso per legittima difesa, come un delitto scusato. In questa storia i confini tra carnefice e vittima sono piuttosto sfumati e l'equilibrio tra i ruoli diventa precario. Detto questo, io ho finito di parlare di questo caso che onestamente mi ha abbastanza stupita, non lo conoscevo e vi ho già detto che cosa penso di questo caso. È terribile ciò che ha fatto Tom, davvero terribile, ma Jade avrebbe dovuto rivolgersi alla polizia, non farsi giustizia da sola. Questa è la mia opinione. Qual è la vostra? Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso qui sotto nei commenti, quindi come al solito ci becchiamo nei commenti, io vi leggo tutti. Nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Grazie a tutti!